Oggi torno di lavoro per il nuovo giarre di Giancarlo Fichera e Giulio Nirelli. Ieri più di quattro ore di lavoro per i gialloblu che sono stati sotto torchio prima sul campo del regionale e poi lavoro di fondo nei pressi di macchia. Giancarlo Fichera in queste prime ore di preparazione ha un po' stupito tutti. I suoi giocatori il pallone lo stanno vedendo tantissimo. Ieri ad esempio è stato fatto un lavoro specifico per le palle inattive, con diverse prove da calcio d'angolo e da punizione. Primi movimenti, primi schemi che i giocatori devono iniziare a memorizzare. La fisionomia del nuovo giarre sarà comunque svelata sabato, in occasione della prima amichevole al regionale alle ore 17 contro l'ACI Sant'Antonio, formazione che milita nel campionato di promozione. Ovviamente le gambe ancora sono pesanti, ma qualche indicazione arriverà sulle scelte di Fichera, su chi potrà essere considerato titolare e cosa l'allenatore giarrese chiede ai suoi ragazzi.